Dai supermercati mi dicono che fanno fatica a gestire la situazione perché ci sono più e più casi di persone che vanno a fare la spesa in 3-4 per famiglia. Siccome non è necessario, a meno che non ci siano motivazioni particolari o gravi, andare con l'accompagnatore, per piacere, non serve fare la gita familiare per andare a fare la spesa. Una persona per famiglia che vada a fare la spesa, altrimenti rendete impossibile la gestione. Grazie